Eeeh bella a tutti ragazzi sono Sam e non di questo nuovo video Oggi siamo con Alberto e Matteo Matteo da tanto tempo che non faccio un video con lui Un mese fa l'ho fatto Salutate ragazzi Ciao Bonjour salut Ok facciamo un terzetto Facciamo una challenge oggi Ogni kill un ballo Ieri ho fatto con Alberto ogni kill uguale un urlo E oggi ogni kill uguale un ballo Se non l'avete ancora fatto Al mio canale sempre Se non l'avete ancora visto Andate a vedere sul mio canale Il video che ho fatto con Matteo un mese fa Quello di Brawl Da tanto tempo che non regisse un video su Brawl Ok ragazzi dove scendiamo? Eeeh andiamo A sabbie Si è sabbie E mi scendiamo a sabbie A sabbie Ok Io sono peggiorata in questi tempi perché Da tanto che non gioco Matteo Perché io gioco il gioco sempre a Minecraft Si infatti Matteo a Minecraft Anche io ce l'ho A verrà anche io ce l'ho Ho questa skin che ho addosso raga Si chiama Jonesy Sub E con lo stile Io sono la Io ho la skin più rarissima del gioco Si infatti Io ho scendo senza toccare il joystick Non ti Ho la mano l'altra No 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 Non ho le mani Raga ve lo giuro Ve lo giuro Che non lo sto toccando niente Ve lo giuro Ma non lo vedete fatto No 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 raga Ragazzi ve lo giuriamo Non sto toccando niente E si sta muovendo giù solo Raga ve lo giuriamo Vabbè raga questo è scherzo addosso E lo stile di Jonesy Sub Della capitolo 2 Sogione 3 Delle state scosse Ancora non facevo video però ancora Purtroppo Nel 2021 Ma io non ho armi raga Non ho proprio armi Raga raga Spass Spass No 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 La batteria ho trovato Io ho una revolver Io ho una revolver No perché mi sono spaventato Mi ho fatto Mi ho fatto prendere un colpo bravo E io sono fortunato Raga 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 ricordatevi Ogni kill un Bravi Quindi facciamo un ballo ogni kill Che facciamo Però qua non c'è gente Vabbè fidate non troviamo Non c'è gente Non dobbiamo Ho visto il simbolo che sparano C'è gente raga Iscrivetevi al canale Sì Io sono già full Un arco Un arco verde Io non lo sono Vabbè io ho armi schifosa Io ho pure Io ho pure C'è un nemico C'è un nemico C'è un nemico Panana Anno 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 Sì Raga io ho fatto una kill Ho ballato Davvero bravo Vabbè ci ho trovato Voglio un'altra Balla bene Cosa? Grazie BANG 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 Tempo a vuole Qualc'è Come c'è? Io ho la testa Tempo a vuole Qualc'è Io ho la testa Io ho la testa Io ho la testa Io ho la posta BANG Bravo Matteo Ok bravo L'hanno visto tutti E facciamo così Per la missione l'ho fatto Ok Raga Raga All'8 giugno Nuovo season Fortnite Io ce la forse A livello 100 Sono a livello 95 Raga Ho 300 vbabs Ma me li voglio conservare BANG Perché non me la fa La missione D'acqua scusa Sto facendo sempre così Io voglio pescare Cosa? Io voglio pescare Pesca Matteo non devi ballare sempre Ah un nemico Ha ucciso Matteo Sì è vero Ha ucciso un nemico Perché sto e ballato Io non ho un cavolo Di pompa Io sì Albetto Tre di quanti Chi l'hai? Io Tre Come tre? Beh no In realtà zero Di sei confuso Però in tutto Ne abbiamo tre noi Io non ho una E ho ballato Matteo non è giro Lasciatemi Lasciatemi voi qualche chilo Però Raga Ok vabbè 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 Sì un buon pa Finalmente un buon pa Matteo guarda Matteo guarda Matteo Matteo guarda Che c'è Guarda Guarda Qua qua Vieni Guarda 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 Raga guardate me Sono veloce Fermo 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 ma Alberto guarda andiamocene dai Alberto guardami Alberto guardami la mia schiena cosa fa io non ho materiali io non ho pochi Alberto guardami Alberto guardami Alberto ho visto ho visto io la faccio il mio ti guardano Silvino io 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 ho pochissima vita io ho pochissima vita dammelo Alberto grazie prendiamo la macchina dammelo un metro no scusa bro abbiamo tutti e due scusa bro salite aspetta non mi posso salire come non mi posso salire ok vai guarda la mia schiena è spettacolare oh non c'è niente qua ragazzi ragazzi amici miei Alberto e Matteo dove lo prendete nuovo passo eh io no perchè mio fratello dice che si deve pagare e non vuole pagare vabbè vabbè io sicuramente io sicuramente io sicuramente io sicuramente sì ragazzi io sono del bello 95 andiamo andiamo un altro pochino lontani perchè siamo vicino alla safe si vede che siamo arrivati in questo momento bravo andiamo qua in questo posto paccheggiamo qua e facciamo un garra rubato oh ho fatto una sfida bravo ho una zanana spazio del nonno ok no io 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 no è mia sai Matteo mi dai le granate d'onda tutto che mi servono per una missione ok grazie dammi il buco dammi il buco del nonno muoviti no guarda te lo do io Alberto te lo do io vieni gente raga dove sei dove sei ma eccolo grazie io mi prendo quello andiamo no ti ho lasciato quello lì blu ma quello fa schifo è vero ho fatto quello lì ma ce fa schifo cambia un ballo faccianti questo venite venite qui da me io ci sono nemico e l'ho fatto due pure ok ma come è possibile che poi manco di culi lo sai che ogni tanto le devi prendere anche le cure se bisogna da ciò mi faccio le mele consome il colore che non vengono i nemici guardate chi armé ho che io guardate chi armé ho guardate wow guardate sono del buco un libro no no vuoi essere questo no oh come ti chiamate il po' aiuto vattene vediamo quello staspo guardate donna d'urto si raga avete granate donna d'urto si dove avete granate donna d'urto no forse è quello si grazie mi servono a me dove sono si s s s s s s s Daga a me se vuole un cura a terra a terra mi fanno il ballo io ho pochissima vita mi stanno sparando per favore matteo, vai aspetta matteo, matteo 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 per favore Matteo mcfv io fuccio Daga me prendete ma mi prendete la mia scheda no, brutto infame oh, non dire parolaccia non dire parolaccia ma perché? non è una parolaccia piuttosto no vai raga, mettiamo pronto no, no brutto aveva 35 di vita possiamo tornare un attimo in lobby ok io pure me la cambio allora mettiti ninja no, sempre ninja mi metto allora mettiti ninja bella idea, come vediamo che skin mi metto e mettiamoci tutti Iron Man non ce l'ho io Iron Man no, no, no mettiamoci tutti mettiamoci Aquaman no mettiamoci tutti no, Doom no, Doom mancaic 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 mettiti Dumbo ho detto oh, oh io la skin io mi metto che skin mi pare perché l'account è mio mettiamoci tutti la skin che ho il peco ok tanto io quella ce l'ho ma voi ce l'avete Hulk rossa certo no io ce l'ho io sono solo Hulk sì Hulk dai mettiamo pronto raga mi chiusi tutti i skin che ho io si me lo sto mettendo ok non questa Alberto e Samuel è questa che ho io con la manetta grigia non ce l'ho io quella non ce l'hai? no, io ho questa e quella rossa tieni a mettere pronto trasformati Alberto trasformati 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 in Hulk perfetto no, tanto il partito non ce l'abbiamo da quanti minuti è che siamo in questo video? da 16 oh deve dover fare tantissimo sto video vabbè 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 ma se non è io la musica io la musica di Miascolo Cartoon io la musica di Miascolo Cartoon me la sono sciopata in live non è vero? sì, quando mi sono sciopata in live mi sono preso pure la musica di Miascolo Cartoon ragazzi è vero? scrivetelo con il social negozio sì, mi fanno la andiamo a parco no no, andiamo a parco no oh, sempre voi dovete comandare no, proprio lasciamolo io me ne vado all'acqua ok, no ma non dovete comandare io non sto facendo niente ma non dovete comandare voi poi il volume così ah no, il volume è massimo ricordatevi la sfida sì, certo io mi ricordo a proposito se vi siete persi il video di ieri andate subito a vederlo dopo sto video vi lasciamo il link in descrizione no, no, no e attiva della campanella non lo metto nella descrizione però comunque io sto sto comunque dopo sto video se volete andate a vedere tutti i video che volete nel mio canale ballate appena lo uccidete dovete ballare avete ballato raga ballate ancora ce n'è un altro ce n'è un altro questo è quanto come ballo penso ok ucciso deve ne faccio un altro perché l'ho ucciso due volte ho fatto quello della trombetta ah il tac ah il tac no il tac il tattico non so manco parlare raga il tattico volevo dire raga spero stasera live spero spero poi vediamo raga spero di sì no con la trombetta blu cosa hai trovato Matteo? con la trombetta blu vabbè non è male io non ho un cavolo di asfalto quant'è chi l'avete? io ne ho una io tre no io spero non c'è un piccone uno e balla però devi ballare signora che è un botte devi ballare io mi posso creare l'arco esplosivo io mi posso creare l'arco esplosivo due quando c'erano due e me ne dai gli altri me ne dai gli altri no le datemi lo scudone no alberto 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 no io non conosco Matteo mi dai l'altro Matteo mi dai l'altro oh andate a maffan bagno oh basta andate a maffan bagno dai basta smettila smettila Matteo c'è l'altro eh Matteo c'è l'altro scudone no andatevi due ma qual è il nonno? e dai no no sa perché è mio no no quello è il nonno no 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 adesso la no adesso la ok ok bravo e no questa volta è il mio però e io non con lo scudo faccio andiamo in safe un pochettino dai ok davanti in macchina perché siamo fuori safe raga mi sono buttato un attimo con gli amici miei in realtà lo scudone me lo ho detto io non sono accorti raga forse Matteo forse sono accorto no raga gente adesso mi sento da me da me da me c'è troppa gente aia spamma troppo cocodè oh qua siete ciechi comunque basta morire sì non me ne frega un cavolo infatti è un secco di cavoli tuoi infatti ma è fatto da te un secco di cavoli tuoi mi viene da la scuola raga prendetemi la scheda senti prendimi la scheda prima la mia muscata è un sacco di vita sbricatemi la testa per scadere sbricatemi ok adesso vai curare Matteo no ragazzi ho qualcuno che spara attenti oddio mi vai a curare mi vai a curare alberto per favore andatemi a curare oh guarda mi sparano mi spara mi spara grazie mille mi sparano tu adesso dimmi come faccio vai vai dimmi tu che manco sai giocare manco come ti permetti sto scherzando non voglio di dire si mi ha fatto no raga non ho fatto il creativo ho fatto 112 della bhe raga 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 vi avviso ragazzi cecchinatori scusate no dai curatemi mi spara curatemi a foresta curatemi a foresta raga curatemi a foresta per favore a foresta a foresta a foresta frignante ho un'idea scappiamo dai dai andate a foresta raga andate a foresta frignante raga andate a foresta frignante così mi curate ecco non perdere tempo Alberto ah ok grazie Matteo mi stai curando grazie vico mio raga e comunque a cecchinatorio avviso per un po' non ci saranno e video di creativo non ce ne saranno per un po' per un po' di tempo raga comunque video di creativo non li faremo per un po' di tempo avviso vuoi delle bende esame no non ce l'hanno delle bende comunque ho solamente una revolvera no no ecco ce l'ho io ce l'ho io a mettermi raga perché io solamente una ok un po' un po' del nonno verde avete colpi bomba raga grazie avete colpi bomba prego eh si 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 le tengo grazie no aspetta aspetta si fa no si aspetta grazie me ne dai altri ragazzi raga aiutatemi ragazzi aiutatemi ok ti vengo ti vengo ad aiutare c'è il boss raga c'è il boss raga c'è il boss aiutatemi aiutatemi raga c'è il boss ho fatto una missione andiamo in safe raga raga non mi sentono ancora i miei amici miei comunque mi sono mutata un attimo dagli amici miei raga comunque la cosa la rima del boss me la sono fregata io si lo sapevo hai il proprio come si pensò lo sapevo raga e ancora anche oggi ci sarà la cicla finale quando si finisce il video raga il tempo posto in fretta già da 27 minuti che siamo in video io sento e benda io io si però è l'unico che ho per favore me lo dai per favore no raga io sono quasi livello 100 livello 95 io raga ce la faccio si penso che ce la faccio perché fra un po' di giorni è la nuova season eh si ma io sto io sono in sefo non posso bagnire ci sono nemici comunque da me ha atterrato uno come cavolo come cavolo tornate il ruby raga è ora di chiudere il video devo mettere la sigla finale no ancora no devo mettere la sigla finale ragazzi cecchinatori se puoi mettere la musica finale di oggi appartate che la metto non chiudere il video non chiudere il video eh senti quando metto la musica finale non lo chiudo eh raga 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 la musica finale sarà questa la musica finale guardate state state zitti che devo mettere aspetta aspetta la metto io mettimi i manchi state zitti che la metto io bella ragazzi spero tante che questo video vi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina al prossimo video ciao raga